buongiorno a tutti allora magliettina di pagliuca ancora per un po' poi vedremo se con la nuova stagione prendo qualcosa di nuovo se posso permettermelo magari sì vedremo vedremo chi vivrà vedrà come diceva qualcuno comunque magliettina di pagliuca perché devo dare i voti siamo arrivati alla fine dell'anno e quindi ci sono i promossi e i bocciati in casa nera azzurro purtroppo dobbiamo fare gli scrutini e quindi si parte dai portieri e si parte dal surandanovic allora signori miei io qua ho andanovic 36 anni un metro 93 di altezza ingaggio netto 3,2 milioni scadenza contratto penso che sia sbagliato 2021 perché non penso sia in scadenza di contratto andano però magari può darsi sia in scadenza di contratto glielo devono rinnovare eccetto forse gliel'hanno già rinnovato comunque va bene andanovic bella domanda quanto gli diamo ad andanovic perché signori miei quest'anno andanovic non è stato all'altezza dell'andanovic però sinceramente io non voglio dargli l'insufficienza gli do un 6 meno meno cioè proprio ti promuovo con beneficio di inventario ecco per intenderci non sei così scarso da bocciarti quindi ti promuovo però sappi che ti ho dato un bel calcettino nel sedere per farti andare all'anno successivo no è come quando facevamo tempi si diceva ho preso un 35 più un calcio in culo 36 io purtroppo ho preso un 36 per altri motivi ma non perché me l'hanno mi ha dato un 35 più uno no mi ha dato un un 45 meno 9 perché ho fatto una cagata vabbè anzi ho detto una cagata andiamo ai difensori centrali allora qua nell'elenco al primo posto mi ha messo il buon ranocchia e io signori miei al mio al buon ranocchia do un bel 7 perché tutte le volte che ha giocato ha giocato bene non ha fatto puttanate l'ultima partita che ha giocato mi ha fatto un salvataggio di testa che non sa neanche lui come l'ha fatto in tuffo in contrasto in tuffo ci ha salvato un gol praticamente e quindi io al buon ranocchia do un bel 7 poi qualcuno mi deve esagerato però il suo l'ha fatto si è comportato sempre bene quindi al buon ranocchia do un bel 7 e ripeto se si abbassa il suo contrattino a un milione io glielo rinnovo io lo tengo perché fa spogliatoio perché non rompe i coglioni perché quando gioca gioca da tutto e ultimamente quando gioca con con chiunque giochi della difesa perché domenica giocavamo con bastoni scrignano bastoni d'ambrosio e ranocchia quindi ce n'era uno buono e due che sono bravini dai sono bravini meno meno ma non sono scrignano e levrai perché se ranocchia gioca al centrale con scrignano e devrai o gioca con scrignano e bastoni ranocchia il suo lo fa quindi io ranocchia 7 scrignano signori miei a scrignano io da un bel 8 e mezzo senza stare alle spiegazioni ma scrignano quest'anno ha imparato a fare a giocare nella difesa 3 anche se magari inizio campionato ha fatto ancora un attimino un po fatica ma poi è diventato il muro che conoscevamo quindi a scrignano da un bel 8 e mezzo a devrai da un bel 8 e mezzo perché anche lui tanta roba e a bastoni se non mi avesse fatto quella puttanata in coppa italia che è stata clamorosa gli avrei dato 8 e mezzo anche lui invece gli do solo 8 poi ditemi voi se ho esagerato non ho esagerato d'ambrosio d'ambrosio gli do un 6 perché quest'anno ha giocato pochino pochino però quando ha giocato ha sempre fatto il suo quindi il 6 glielo voglio dare veniamo a young ci saluta ciao young forse anche d'ambrosio ci saluta andrà a giocare al napoli o dove vuole e young non voglio essere cattivo gli do un 6 meno meno perché comunque va bene disastri ne ha fatti un sacco però dai l'ultima partita ha anche fatto un bel gol con lo scavetto lui ci riesce a fare gli scavetti qualcun altro deve imparare e quindi gli do un 6 meno meno senza infamia senza lode allora veniamo ad akimi allora all'inizio di di campionato anche per lui è stato atroce con quell'errore clamoroso in champions del passaggio a benzema è vero che gli hanno fatto un mezzo fallo mentre stava facendo il passaggio indietro però buttala fuori c'è un compagno vicino dagliela al compagno vicino perché la devi dare dare ad andano invece gliela hai data benzema quindi il suo inizio è stato pessimo ma poi ha fatto come la cavalcata delle valchirie di wagneriana memoria è andato in crescendo e crescendo crescendo si è portato a casa un bel 7 all'otto proprio perché all'inizio è stato colarov è stato una delusione mi dispiace ma disastri all'inizio poi è stato accantonato quindi non gli posso dare certo la sufficienza gli do un 5 e mezzo darmian darmian è stata la sorpresa positiva delle riserve perché è arrivato con uno scetticismo che metà bastava cosa abbiamo preso darmian cosa ci serve darmian e vecchio darmian sembrava la canzoncina quando c'era la canzoncina del tarzano di sandra e mondaini sandra mondaini era il mondo vianello memoria ma quanto è scemo tarzano ma quanto è pirla tarzano non era così non era più edulcorata però più o meno il significato era quello non sa parlare tarzano sa solo urlare tarzano eccetera eccetera e darmian l'hanno accolto proprio che ce ne facciamo invece signori miei darmian a parte delle ultime partite ha segnato i gol di bidine che ci hanno fatto che ci hanno portato a casa tre punti pesanti e poi quando ha giocato al posto di akimi il suo l'ha sempre fatto certo akimi è quando sta bene al 100% e gioca al 100% akimi è tanta roba però darmian non lo fa rimpiangere non fa danni non lo fa rimpiangere ogni tanto puccia anche il biscotto quindi il suo lo fa e quindi a darmian gli do un bel 7 all'otto veniamo al coccodrillo come fa c'è qualcuno che lo sa il buon brozovic a marcello un belotto non glielo toglie nessuno corre corre non si fa è come batman brozovic batman corre sempre si dà da fare deve migliorare su una cosa essere velocizzare il gioco perché lui sa fa sempre quel tocco in più che non ci vorrebbe però ragazzi miei lui fa un po tutto nel centrocampo è un tutto fare quindi 8 certo qualcuno mi può dire goresca è meglio e grazie tante de broine è meglio grazie tante però brozo lo fa veniamo alle dolenti note gagliardini lo devo vedere anche l'anno prossimo no 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 allora ragazzi gagliardini se devo guardare l'impegno 10 lode perché ragazzi gagliardini da tutto però il problema è che è gagliardini quindi alla fine siccome è un 10 da una parte un 2 dall'altra gli do un 6 e via andare veniamo al buon vessino vessino quest'anno purtroppo ha fatto l'operazione l'anno scorso doveva rientrare a gennaio poi ci sono stati ancora problemi eccetera e alla fine l'abbiamo avuto a disposizione solo nelle ultime partite ne ha giocate forse otto pochi minuti pochi minuti poi le ultime ha giocato titolare io sinceramente un giocatore come vessino me lo terrei se sta bene è un punto di forza ce l'hai lì lo puoi buttare dentro alla massaro magari ti risolve le partite perché lui spesso e volentieri le partite le risolve con spalletti le ha risolte spesso è un giocatore che sa difendere e sa attaccare però dipende com'è il rapporto con conte perché da quello che ho capito vessino e conte non vanno molto d'accordo forse perché sono tutte e due con la garra ne hanno troppa e quando due hanno troppa garra poi fanno accornate però al buon vessino per quel poco che ho visto un 7 glielo voglio dare perché comunque l'impegno ce l'ha messo qualche golletto l'ha fatto lo stesso ha giocato poco siamo d'accordo però un vessino se l'anno prossimo sta bene eccetera e non mi fa il sensi della situazione di cui adesso andremo a parlare io se non c'è la possibilità di portare a casa nessuno mi tengo un buon vessino e poi almeno un centrocampista ce l'avremo bisogno perché qualcuno dovrà partire veniamo a sensi allora ragazzi se si è un crack è uno giocatore che quando lo vedi giocare ti fa godere come un porcello perché c'ha il tocco di palla perché apertura lanci tutto quello che volete ma si rompe a scendere dalla macchina quindi io come valutazione sulle poche partite che ha fatto gli do la sufficienza piena però credo sia giusto o cederlo per una cifra importante o come dice il buon catto darlo in prestito al bologna in stile baggio per vedere se magari nel bologna riesce a ricrescere a rinascere a giocare magari non dico 38 partite su 38 ma almeno 25 poi ripeto se è vero come è vero che ahimè è un mandrillo e ciula come un matto e se le tromba tutte ed è per quello che si rompe ragazzi miei allora la colpa è tua veniamo al buon barella ragazzi a barella gli do un 9 cosa c'è non non gli puoi dare meno a barella è l'anima della squadra quest'anno ha giocato anche tutte le partite fortunatamente non si è rotto sta imparando anche a darsi una calmatina con gli arbitri anche se ogni tanto ancora sbarella però se barella si calma ed evita certe sue rimostranze come si usa due dire eccetera può diventare uno dei più forti centrocampisti italiani della storia e scusatemi l'esagerazione ma sinceramente in molti vedono in lui il nuovo tardelli io vedo il nuovo nicolino berti altri vedono altri giocatori però barella è tanta roba e quest'anno ha fatto un grandissimo campionato veniamo ad ericsson che prende un botto di soldi sette e mezzo più un e mezzo di bonus eccetera allora ragazzi ericson sta imparando sta imparando a giocare nel calcio italiano perché con conte impari anche un asino riesce a diventare un cavallo con conte poi non diventerà magari un puro sangue però diventa un cavallo e quindi lui ha imparato anche a difendere o comunque ad occupare lo spazio come spiegavano in tanti la questione è cederlo o non cederlo perché lui è tanta roba perdere ericsson e sensi vuol dire perdere i due geometri del centrocampo perché poi non ne abbiamo brosovic non è propriamente un giocatore con le caratteristiche di sensi di ericsson e wainaldum è un po un altro brosovic forse coi piedi un attimino più buoni però non mi sembra un ericson non sensi per quello che l'ho intravisto giocare nel liverpool poi magari qualcuno mi dirà no gigi wainaldum è fortissimo sempre se arriva wainaldum quindi come è nata io a ericson gli do un bel sette perché anche lui ha fatto come akimi è dovuto crescere 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 con la differenza che qua da gennaio del 2020 quindi ha fatto quattro mesi più altro un altro anno però piano piano ha imparato e piano piano si è preso il centrocampo quindi un buon set ad ericson glielo voglio dare veniamo a bidal che ahimè a parte il gol alla juve ha fatto più danni che cose positive gli do un 5 e mezzo ma francamente ncs caro arturo non ci siamo e a 33 anni se veramente ti vuole l'olimpic marsiglia vuoi andare a giocare in sud america vai pure basta che ci danno quattro soldi per recuperare quel poco che ti abbiamo pagato e siamo felici e contenti veniamo all'attacco qua 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 andiamo andiamo alto lautaro martinez nove e mezzo poi so benissimo che manuel pinna il mio il mio follower ma ragazzi io lautaro martinez ve l'ho detto lautaro martinez e romelo lucaco li cambio solo per tre giocatori joe felice quello più scarso alan ed è imbappé anche se imbappé non mi fa impazzire se no a perdere quando sento prendiamo vlauic al posto di lucaco a me viene il conato prendiamo belotti al posto di martinez prendiamo sonno al posto di ma no noi abbiamo l'attacco più forte d'europa dopo quello del bayern monaco non si cambia ce li abbiamo quindi lautaro martinez nove e mezzo 17 gol in campionato per una seconda punta è un record è un record che non capitava da anni sanchez sanchez 7 perché comunque quando è entrato il suo l'ha sempre fatto è un giocatore che non rompe le scatole entra in campo da sempre tutto quest'anno a regola gli infortuni sono andati abbastanza bene anche l'ultimo infortunio l'ha recuperato abbastanza in velocemente infatti l'ultima ha giocato ha saltato solo la juve basta e quindi sanchez 7 poi ragazzi miei se lo vogliono sostituire che lo sostituiscano con uno all'altezza lukaku 10 perché lukaku 24 gol 11 assi scusa gli volete dire a questo ragazzo è l'anima della squadra certo deve migliorare con i gol facili deve imparare a segnare i gol facili perché lui mi fa dei gol che rimani così e poi il gol facile come anche domenica no domenica vabbè ha fatto il gollonzo però prima gli è arrivato un cross che doveva calciarlo in porta e mandare in porta anche il povero portiere l'ha ciccata clamorosamente e sono lì quelli sono quegli errori lì che mi danno fastidio di lukaku se migliora in quello diventa da pallone d'oro se no no e quando mi fa il doppio passo alla ronaldo che il difensore sta lì fermo e mette il piede e lui va avanti e la palla resta attaccata al piede del difensore perché si impappina da solo non li fare non sono nelle tue corde non li fare pinamonti senza voto perché poverino non ha mai giocato cosa volete qualcuno mi ha mi ha messo l'insufficienza pinamonti non ha mai giocato conte non lo vede eccetera quindi mi auguro che la squadra che lo prende lo faccia giocare l'anno prossimo sia il titolare fisso innamovibile a meno che proprio dopo dieci partite non ha fatto manco un gol ha preso sempre quattro in tutte le partite allora lo cambi ma gli diano il tempo di crescere io vorrei vedere pinamonti in una squadra che gli dà il tempo di crescere e di giocare una squadra che non ha problemi di classifica che è tranquilla e che può permettersi di di perdere tempo dietro a pinamonti per permettergli di crescere perché se lo deve prendere una squadra che lo tiene lì in panchina come nell'inter e lo butta dentro un quarto d'ora 20 minuti un quarto d'ora 20 minuti è inutile lui ha bisogno di trovare una squadra che gli dia piena fiducia ed il mio auguro che visto che c'è Raiola come procuratore il Shur Raiola gli trovi la squadra giusta perché ragazzi miei il Shur Raiola potete dirgli quello che volete ma il suo mestiere lo sa fare anche troppo bene poi certo fa lo stronzo tra virgolette fa i suoi interessi ma fa anche gli interessi del giocatore cerca di fargli guadagnare tanti soldi ma contemporaneamente di fare in modo che sbagli in una squadra in cui possa dimostrare di essere bravo e veniamo alla sorpresona altra sorpresona del campionato Ivan Ramiro Perisic come lo chiamo io che gli voglio dare un bel otto perché quest'anno Perisic finalmente ha giocato tutto il campionato non ha mandato suo fratello a giocare da natale fino a pasqua ma ha giocato lui ha giocato bene nell'ultima giornata mi ha fatto un gol che mi ha fatto libidine doppia libidine doppia libidine con i fiocchi e contro fiocchi e vedremo cosa vorranno fare l'anno prossimo se lo cedono lo tengono eccetera ripeto io uno come Perisic me lo tengo buono va via Young mi tengo Perisic prendo un Di Marco certo ci vorrebbe si può dare di più come dicevano però ragazzi miei purtroppo siamo tutti in deficit siamo tutti messi male economicamente vale per tutte le squadre non solo per la nostra perché comunque si sono persi i soldi degli incassi dagli stadi gli sponsor sono ci sono e non ci sono quindi bisogna fare di necessità virtù se cambi un giocatore devi prendere qualcuno meglio se parte Perisic devi andare a prendere un esterno che sia forte e non è semplice quindi staremo a vedere io comunque quest'anno l'annata di Peris mi è piaciuta e quindi gli do un bel sette e mezzo sette e mezzo anzi otto avevo detto otto avevo detto otto dai diciamo otto voglio essere buono e concludiamo con Tonino Tonino Conte allora il buon Antonione Conte io gli do un bel nove perché c'è sempre quella magagna che non è colpa sua della Champions però non è colpa sua ragazzi andate a vedervi le due partite con lo Shackard vi rendete conto che strameritavamo di vincerle tutte e due vincevi le due partite con lo Shackard tu vincevi il girone non è che arrivavi se arrivavi primo con sei punti in più purtroppo è andata così e vabbè è andata così poi non cambiavamo granché perché se arrivavamo in secondo giocavi con il City andavi a casa comunque poi magari a febbraio noi eravamo più in forma però resto dell'idea che il City è la squadra che andrà a vincere la Champions quindi cambiava poco ripeto quando io gioco le qualifiche della Champions League o arrivo primo arrivo terzo io il secondo posto non lo voglio vedere perché significa andare a prendere una squadra forte che vai a casa negli ottavi stai lì a amenartela su per due mesi oddio dobbiamo giocare gli ottavi di Champions oddio dobbiamo giocare gli ottavi di Champions magari perdi un po' di concentrazione perdi un po' di punti come pseudo teoricamente dicono che hanno perso altre squadre eccetera 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 ed è per quello che hanno perso lo scudetto balle ma poi giochi l'ottavo e vai a casa e quindi ti cambia poco viceversa arrivi terzo vai in Europa League te la giochi ragazzi miei vincere l'Europa League vuol dire essere testa di serie in Champions è come vincere il campionato e io l'Europa League dopo la finale l'ho detto ce l'ho ancora qua la finale dell'anno scorso di due anni fa ormai col Siviglia o dell'anno scorso di due anni fa quello che volete ce l'ho ancora qua e finché non si vince una coppa europea mi resterà qua detto questo fatemi sapere se vi sono piaciuti i voti che ho dato eccetera non sto a dare i voti alla dirigenza perché non mi sembra il caso sinceramente perché è tutta promossa dirigenza or reali marotta presidente eccetera tutti promossi e ci vediamo ai prossimi video però voglio sentire sia dagli interisti sia anche dai non interisti se i voti che ho dato vanno bene ho esagerato non ho esagerato se ho esagerato con qualcuno se non ho esagerato con qualcuno eccetera 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 che voti avreste dato voi ciao 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 ciao